Musica Cari telespettatori di Fano TV, buonasera e benvenuti al terzo approfondimento dedicato al piano di emergenza del comune di Fano. Dopo aver capito nelle scorse puntate chi sono e che cosa devono fare i vari attori protagonisti di questo piano, oggi entreremo un po' più nel dettaglio e lo faremo insieme al sindaco di Fano Massimo Seri. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. E Saverio Olivi, presidente del CB Club Matteo di Fano. Buonasera, buonasera a tutti. Sindaco, ricordiamo intanto qual è l'obiettivo di questa campagna di informazione. L'obiettivo è quello di avere una cittadinanza sempre informata e ovviamente un'amministrazione ben preparata ed organizzata. Noi dobbiamo essere consapevoli che il nostro territorio, l'Italia, è un territorio sismico, la nostra città è un territorio sismico, i cambiamenti climatici portano sempre a fenomeni straordinari e quindi non possiamo sottovalutare questi aspetti pensando che magari le cose capitano sempre da altre parti. possono capitare anche da noi. E allora diventa fondamentale informare, preparare i cittadini. Noi sappiamo che quando ci sono le emergenze succedono catastrofi, il caos, il panico creano ulteriore disagio. E allora un cittadino informato, preparato, consapevoli delle cose che deve fare può agevolare certe situazioni pur sapendo che si troverà in momenti difficilissimi. E allora ecco, anche questi incontri, questi momenti servono per responsabilizzare il cittadino, cercarlo di informare sapendo che non si deve mai sottovalutare nulla. Che ruolo ha il sindaco e il comune? Beh, il sindaco ha un ruolo importante durante le emergenze perché è il primo responsabile della protezione civile nella propria città. E cosa fa l'amministrazione comunale? Innanzitutto deve essere preparata e ben organizzata perché altrimenti si rischia di peggiorare le situazioni. Abbiamo visto troppe volte in tante realtà dove le amministrazioni e le istituzioni non erano pronte e si sono aggiunti danni ai danni già creati dall'emergenza. Allora noi intanto cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiornato il nostro piano di emergenza ed è lo strumento fondamentale per affrontare qualsiasi situazione individuando tutte le casistiche e tutte le situazioni che si possono creare e studiando anche quelli che sono i comportamenti. Poi abbiamo fatto un altro lavoro importante. Il secondo livello di microzonizzazione sismica. Cosa significa? Significa un approfondimento, uno studio attento del territorio. Questo serve per le scelte che si fanno in un territorio. A cominciare se si devono costruire degli edifici, delle abitazioni, delle strutture, sapendo in quale territorio si costruisce, dando le disposizioni e le direttive per, se si parla di zona sismica, per che siano realizzate con tutti i crismi ondevitare situazioni di pericolosità nel momento in cui si verificano. Ma è a rischio il nostro territorio? Il nostro territorio è al secondo livello. Il primo livello è quello più alto e il nostro territorio è al secondo livello. Quindi possono verificarsi situazioni di terremoto. La storia ci insegna che Fano ha subito molto tempo fa, quindi questo non significa che non possa ripetersi in futuro. Allora bisogna prepararsi. L'altra cosa che l'amministrazione fa è quello di aggiornarsi continuamente. Quindi anche tutti gli attori, coloro che sono protagonisti nel piano di emergenza, coloro che devono svolgere determinati servizi, determinate funzioni nelle emergenze, vanno aggiornate continuamente, perché poi altrimenti si rischia di trovarsi impreparati nel momento del bisogno. Si fanno esercitazioni, per esempio anche nello scorso settembre abbiamo fatto un'esercitazione molto importante. E l'altra si fa un lavoro di informazione con i cittadini, attraverso strumenti come questi, attraverso materiale cartaceo. Ricordo che nel nostro sito c'è tutto il piano di emergenza che invito tutti a visionare, perché ripeto, è fondamentale conoscere ciò che bisogna fare in determinati momenti. Ecco, Stavere, ricordiamo anche quali sono i tipi di emergenza. Sì, sono molteplici, in pratica per Fano li conosciamo abbastanza bene, l'alluvione, le nevicate, fino ad arrivare alle mareggiate. Vento forte, ad esempio, sabato scorso siamo stati contattati dai vigili del fuoco, in preallerta, in pratica se c'era la necessità di, poi non è stato così perché non c'è stato bisogno, però bisogna partire dal fattore del volontariato che il volontario deve essere a disposizione, deve essere in pratica preparato però, perché un volontario non agisce in prima persona, ma si deve preparare e formare perché le autorità possono usufruire del volontariato. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella quotidianità i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, sono in grado di gestire l'emergenza senza avere la necessità del volontariato. Laddove si presenta qualcosa di diverso, cioè una calamità più importante, dove servono numeri, entra in funzione il volontariato. Quel volontariato che però non può essere un volontariato spontaneo, deve essere un volontariato preparato. Noi abbiamo tutti gli anni un trainer dove le persone si formano per quello che riguarda l'allestimento di un campo, la cucina, la segreteria, piuttosto che sulla logistica, il montaggio delle tende, sono tutte cose che non possono essere lasciate al caso. Una tenda o la sai montare o non la sai montare. Quindi per fare questo il volontario nuovo, ma anche chi ha esperienza, deve ripetere e ripetere in pratica tutte queste cose. Quindi se le forze dell'ordine, a partire da chi è, proprio i vigili del fuoco preposti all'emergenza, devono soffrire del volontariato, questo volontariato deve essere formato e soprattutto devono conoscerlo. Cioè bisogna avere un rapporto con le istituzioni. Nella maniera in cui il volontariato si mette a disposizione del formato può essere utile e questo ci lavoriamo tutto l'anno per far sì che il volontario serva a qualcosa e non al semplice volontariato, giusto per un numero. Ecco, quindi esercitazione e formazione, ce ne puoi descrivere, puoi entrare nel dettaglio? Certamente sì. La formazione si può fare anche al proprio interno, oppure la fa la Regione Marche. Noi abbiamo proprio la prossima settimana un corso per l'HCCP, per gestire la cucina, organizzata dalla Regione Marche. Nel prossimo mese abbiamo la formazione del live antincendio boschivo proprio qui a Fano per quello che riguarda la provincia di Peso, organizzata dalla Regione Marche. L'utilizzo delle motopompe, motosega, in pratica sempre organizzata dalla Regione Marche, piuttosto che invece formare l'unità di crisi su come gestire un'emergenza organizzata a livello nazionale. Noi aderiamo a FirCB, quindi organizza dei training che spesso sono fatti a Fano per tutto quello che riguarda, in pratica, come dicevo prima, la segreteria, la logistica, le comunicazioni radio. Non si improvvisa il montaggio di una rete radio, quindi anche tecnicamente ci vuole delle persone preparate, i volontari preparati e deve funzionare. Non si può provare al momento o quando necessita. Quindi bisogna esercitarsi, provare e riprovare affinché quando arrivi sulla calamità, sul posto, deve funzionare il tutto. Quindi questa è in pratica la formazione. Mentre invece l'esercitazione è direttamente sul campo. Arrivano persone da fuori, come è successo già qui nell'esercitazione, non la facciamo solo Fano, ma sono organizzate sia dalla Regione Marche sia a livello nazionale, per far sì che oltre alle tecnologie, la radio e tutto il resto, anche le persone sappiano collaborare fra di loro. Non è sufficiente un'associazione per montare un campo di protezione civile, ma ci vuole una sinergia. E quindi più persone, più associazioni riguardanti alla Regione, in Regione siamo oltre 15 mila volontari, a livello nazionale le associazioni nazionali sono 44, sono migliaia e migliaia i volontari, ma se non si vedono fra di loro, se non danno vita al montaggio di un campo, piuttosto che alla gestione di un campo, piuttosto che alla gestione di una segreteria, mai lo sapranno fare improvvisando. Quindi questa è la formazione durante l'anno che termina in una esercitazione, nel mettere in pratica tutto il sistema di protezione civile per dare una risposta, perché soprattutto il volontariato serve nella gestione, sì quotidiana per la neve, un supporto da una mano, ma soprattutto nel montaggio di un campo, a livello nazionale, ogni regione riesce tranquillamente a dare supporto a qualcun altro gestendo un campo, chi riesce nelle grandi regioni è anche un paio, e anche a livello nazionale le associazioni sono 44, ma ci sono forze che riescono a montare addirittura più campi. Poi c'è l'ospedale da campo, che sono due in Italia, uno tra l'altro nella Regione Marche, e questo siamo stati anche poco tempo fa in Romania, appunto, per esercitarsi con il resto dell'Europa, i componenti, e qui devi essere in grado di capire, non entrando nello specifico dell'ospedale, ma devi rendere ai medici e agli infermieri una struttura pronta, sia dalla segreteria, della comunicazione radio e dell'attrezzatura, il campo, l'ospedale, e tutto il resto che funzioni. Per fare questo bisogna essere formati, bisogna esercitarsi. E preparati. Sindaco, quali sono invece le linee guida? Quali suggerimenti può dare ai cittadini? Beh, innanzitutto per non vanificare o non metterne le condizioni di poter operare quelle forze professioniste come le forze dell'Orni, i vigili del fuoco, che operano in questi momenti, e i volontari, come abbiamo sentito nel nostro territorio, sono veramente molto preparati e di alta professionalità. E su questo siamo molto attenti, anzi voglio anche ringraziarli. Diventa strategico il comportamento delle persone, persone consapevoli e informate. Allora ricordo ancora prendere visione del piano di emergenza che si trova nel nostro sito. E poi bisogna capire le norme di comportamento in base alle emergenze che si vengono a creare. Ci sono comportamenti prima, nei momenti di normalità, quando non c'è nulla, ci sono norme di comportamento durante l'emergenza, diciamo il manifestarsi dell'emergenza, e comportamenti subito dopo il verificarsi del terremoto, dell'alluvione o delle determinate situazioni. Ecco, su questo a cominciare dai momenti di normalità, dove magari non ci si preoccupa mai di queste cose. Diventa fondamentale anche sulle piccole scelte, se volete possono sembrare anche banali, ma diventano importanti nei momenti poi di difficoltà e di crisi. Ad esempio? Allora, prima, la prima cosa è quella di dotarsi all'interno di ogni abitazione di un equipaggiamento di pronto soccorso. Adesso non sto a fare l'elenco delle cose che occorrono, ma anche nel nostro materiale c'è scritto, perché poi possono tornare utili e fondamentali in determinati momenti. Poi anche nelle scelte quotidiane, nelle scelte di come si arreda, di come una casa, di come si predispongono i mobili all'interno. Per esempio, utilizzare sempre mobili bassi con appoggi larghi e di materiale robusto, tenere liberi gli accessi principali e non mettere mai materiale infiammabile vicino ad essi. Quando sistemiamo, penso alle camerette dei bambini, magari non mettere i letti sotto le pensiline. Sono cose banali, non ci diamo importanza, ma poi se c'è un terremoto, queste possono diventare anche letali in determinati momenti, fissare bene i mobili e gli armadi robusti. Poi ci sono altri elementi importanti, come comportarsi durante l'evento, quindi come ripararsi, dove mettersi all'interno sotto delle travi di protezione. Quindi riparati nel luogo più sicuro all'interno della propria casa. Esatto, faccio alcuni esempi, non prendere l'ascensore, scendere per le scale, nel momento della scossa bloccarsi e non fuggire subito, non andare sui balconi. Sono tutti accorgimenti che possono, ripeto, sembrare banali, ma in quei momenti sono fondamentali, possono salvare delle vite. Ma che cosa dovrebbe fare un buon padre di famiglia? Il buon padre di famiglia deve, come dicevo prima, preoccuparsi in tempo di pace, come si dice, di fare queste scelte a priori, perché diventano comportamenti di prevenzione. Poi preoccuparsi di informare anche il proprio nucleo familiare, informare i propri figli. Poi le questioni non riguardano soltanto la casa, ma riguardano per esempio la scuola, riguardano il posto di lavoro, tutti questi accorgimenti, queste attenzioni, devono riguardare tutti quei luoghi dove ci si può trovare quando si verificano eventi di questo tipo, in particolar modo quando parliamo di terremoto, perché lì parliamo di secondi, di panico, di momenti di tensione dove anche l'emozione prevale sulla razionalità e allora ecco anche aver fatto delle scelte prima possono aiutare in quei momenti. Poi c'è tutto il lavoro che fanno i cosiddetti professionisti, che siano volontari, che siano forze di loro, ma questi intervengono immediatamente dopo. In quei momenti diventa importante il comportamento che tiene ognuno di noi. Ripeto, a cominciare anche dalle cose più semplici, banali, ma che diventano straordinariamente importanti nei momenti di crisi. Dicevamo poi che ci sono anche delle aree preposte, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, ne entreremo nel dettaglio anche nella prossima, però è fondamentale che i cittadini sappiano esattamente non solo che cosa fare prima ma anche dove andare poi. Esatto, nel momento del terremoto, in questo caso che bisogna lasciare la propria casa dopo gli accorgimenti che ha detto il sindaco, ci si deve recare in pratica. Nella zona loro assegnata, e lo trovano sul piano, ma anche ampliamente è stata portata a conoscenza dall'assessore Fanesi nella scorsa puntata, e siccome ne sono delle altre si tornerà ad approfondire, lì il cittadino attende gli aiuti. Si apre il COC, il COC sa benissimo che sono nelle 60 circa aree che sono messe a disposizione, manderà una forza dell'ordine o un volontario munito di una radio per comunicare al COC stesso quante sono le persone e in base alle persone che sono fuori casa, non possono rientrare e tutto il resto, il sistema di protezione civile mette in piedi un ricovero, una palestra se è una questione come nella bomba di un giorno o due, piuttosto che allestisce un campo con tanto di cucina e segreteria per rispondere in pratica alle esigenze dell'evento. Ecco, i volontari sono sicuramente tanti, ma mai abbastanza. Chi volesse aiutarvi, come può fare? A chi si deve rivolgere? Ho direttamente a noi, alla nostra associazione che ha sede presso il CODMA, all'interno del CODMA, è vero, i volontari non bastano mai, anche perché chi lo fa da tanto ed è su per una certa età non può essere più volontario e di conseguenza un rinnovo annuale ci vuole sempre. Quindi per chi volesse avvicinarsi alla protezione civile, al volontariato di protezione civile, non ha che da contattarci, è un posto sicuramente dove per tutti. Non a decine, ma comunque un ricambio annuale lo abbiamo sempre e volentieri lo prendiamo con noi. Sindaco, speriamo che anche attraverso questi approfondimenti e la vostra informazione ci siano sempre più cittadini consapevoli. Sì, l'obiettivo è questo, ma noi sappiamo che dobbiamo aumentare sempre più i momenti di informazione. Iniziando da questi, ma produrremo anche del materiale cartaceo, vorremmo fare anche dei momenti informativi fra la gente, magari attraverso delle assemblee nei vari quartieri, ma soprattutto aggiornandoci anche noi continuamente e ricordando, magari diventando anche noiosi, ma su queste cose non si può scherzare, bisogna essere sempre attenti e pronti. E questo è l'obiettivo che noi ci siamo dati. E fortunatamente a tutt'oggi, tutti i momenti difficili, li abbiamo sempre affrontati con grande professionalità, stando vicino alla gente, aiutandoli, creando il minor disagio possibile. E noi ritorneremo a parlare di questo piano di protezione civile anche durante la prossima settimana. Io intanto ringrazio il sindaco di Fano Massimo Seri e Saverio Livi, presidente del CB Club Matteo Di Fano. Grazie per essere stati di nuovo nei nostri studi e a voi tutti un buon proseguimento di serata.